ciao a tutti e bentornati in un nuovo video oggi facciamo un video scopriamo le creazioni in resina non mi ricordo se già lo avevo fatto però adesso ne vado a fare allora questo stampo è di gea creation questo stampo l'ho trovato su vinted dalla prima volta che li faccio tutti quanti mentre questo qui me l'ha dato la mia amica nancy le creazioni di nancy andiamo a vedere cosa ci c'è là dietro questo splendido ma che figata questo cameo ma dovevate bello bellissimo e con questi pigmenti ci sta proprio bene meraviglia 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 mettiamo qua si quale voglio fare alla fine allora andiamo a scoprire questi che la prima volta che li faccio vediamo un po che questo qua devo andare a rifinire nella chiave del mio cuore con i pigmenti neri glitterati dentro prendiamo a vedere anche giustamente e l'angelo e il diavolo praticamente eccolo qua qui il pigmento è venuto si si vede un po di rosa dai si vede si vede si vede andiamo a scoprire questa ala di pipistrello che figata ma che figata assurda peccato per questa bellicina mannaggia meraviglia delle meraviglie no sono troppo curiosa di vedere questo qua della fata mi sto sentendo male bellissimo cioè ma guardate ma guardate il pigmento non vedo nulla di ferra c'è una fatina qua sto male bellissima cioè guardate i pigmenti che meraviglia no cioè se questi sono usciti così io non posso immaginare adesso che cosa uscirà da qua allora io ho il cuore a mille oh che carino guardate ma che carino peccato per questi grumetti mannaggia ma dai ma che carino mannaggia peccato per quei grumi che bello ma guarda che bello mamma mia quanto è bello questo pigmento è stupendo stupendo calcolate che è la prima volta che li uso quindi devo anche un attimino capire come si usano questo qua oh che bello questo acchiappasogni ma guarda che belli questi riflessi fantastici fantastici andiamo a vedere questo scusate la mia voce sono in piena crisi di allergia mamma mia che meraviglia stupendo 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 cioè ma guardate guardate riflessi c'è stupendi andiamo a vedere questo wow 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 non ho parole sono stupendi sono stupendi questi acchiappasogni sono stupendi andiamo a questo oh che bello ma che meraviglia ma che meraviglia questo ma ne vogliamo parlare della bellezza bello 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 sono troppo felice troppo felice qui con il viola vediamo come è venuto che bello non so se è qui dietro perché l'ho lasciato bianco ci vado a fare delle creazioni o li lascio così ma vediamo 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 come va questo qui l'ho lasciato bianco si l'ho lasciato bianco ci ho messo i gas che meraviglia stupendo 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 questo qui era quello con il lupo se non mi sbaglio non è ancora morbido no 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 era il più bello no ecco come si fanno gli epic fail epic fail no era il più bello di tutti sì ma taccia ma perché questo qua non si è indurito come gli altri mannaggia epic fail addio vabbè ci ritroveremo nella prossima puntata aspetta però che fammi vedere se questo qua si è indurito ma perché solo quello non si è indurito perché 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 era il più bello quindi perciò non doveva uscire no non mi piace questo qua non mi piace come è venuto vabbè vabbè questo qua lo metteremo come immagino tralasciando il lupo ma guarda che meraviglia tralasciando il lupo perché poverino dai ma è proprio morbido cioè guarda qua si spezza proprio è no cioè è bello è no vabbè vabbè lasciamo stare l'importante è che questi qui sono venuti questo qua devo andare a rifinire pulire tutto quanto sì devo andare a pulire qua così eh già vabbè questo video scopriamo le creazioni questo qua è la mia preferita questa è la mia preferita in assoluto bene questo video scopriamo le creazioni e finisce qui io ringrazio Gea per questo questa perfezione vabbè io sono tutta la serata a fare questo praticamente alla luce e niente ragazzi ci vediamo nella prossima puntata restate connessi ciao